Che cosa sono le gas fee? Io ci ho messo 20 giorni a capire cosa fossero le gas fee, perché ogni tanto andavo a comprare magari qualche cosa e uscivano una cifra che non era la cifra del prodotto che volevo comprare, ma era la cifra più un importo di 50, 100, 200 dollari in più. Dicevo ragazzi ma che è sta roba, è l'IVA? No non è l'IVA, le tasse, la tassa di soggiorno, sono le gas fee su Ethereum, cioè questa roba su altre reti invece non hai le gas fee ma hai delle transazioni che sono molto più economiche, però i miei NFT che escono il 2 febbraio 2022, Montilab è il nome della collezione, Crazy Fury è il nome di queste 10.000 immaginette fighissime che ti dà una possibilità di, se lo vuoi, accedere a un po' il mio mondo, se scommetti sul pelato di Brighton, sulla nostra community da quei prossimi anni, insomma può essere un modo interessante per connetterci, a questo punto noi le vendiamo su OpenSea con Ethereum e tu arriverai lì e io lo so già che sarai un po' girosa o giroso quando arriverai al checkout, perché arriverai e dirai Ah Monti però, costa mica tanto il Crazy Fury di Monti, poi arrivi lì e dici aspetta aspetta, ma il prezzo è diverso, perché? Perché si bastardi applicano le gas fee che non le piglio io, le piglia Ethereum, la verità è che quando arrivi c'è questa operazione da fare. Ma andiamo a vedere un esempio pratico dimostrativo, tu ti scegli un'immaginetta, qua è un esempio ovviamente a caso, random, vedi che il prezzo è zero in questo caso. Allora dici, ma io porto a casa a zero lire, è fantastico, confirm checkout e andiamo, andiamo, è zero, è zero, è zero, è gratis! E questa è una cosa interessante, che internet all'inizio, prima di entrare nel merito dei gas fee, era tutto gratis, ve lo ricordate? L'idea era, è tutto gratis internet, invece il Web3, cioè l'evoluzione, cripto, cosa, NFT e compagnia cantante, è tutto a pagamento Belin, non c'è una roba che puoi fare senza pagare subito. Vuoi giocare a videogame? Prima paghi, ti porti a casa le immaginette e poi, e a quel punto giochi, qualunque cosa c'hai, insomma una struttura e ci sono delle ragioni per questo, è decentralizzato, c'è un'infrastruttura a mantenere, ci sono i miner, ble ble ble, insomma la puoi vedere come vuoi, però queste sono le regole, non le ho fatte io e questo è quello che ci cucchiamo. Allora, quando tu vai a fare il Confirm Checkout di quell'esempio di immaginetta, che in quel caso costava 0 dollari, lo vedi che qua ti dice, oh zio, guarda che non sono 0 dollari, l'estimated gas fee sono 74 dollari e 41, 0.03 mil... Ethereum. Una cosa interessante del gas fee, vedi la proprio così, la tassa di soggiorno, ecco, è presente, la tassa di soggiorno, quando vai lì che lo tetti c'è e poi c'è la tassa di soggiorno, ma quant'è? E cambia da tutte le parti. Ecco, è una tassa che tu paghi al mondo di Ethereum alla rete Ethereum. Oh, io al solito semplifico e cerco di dare i concetti principali, poi cerchiamo di mettere un po' di link di gente capace che ne sa di questi argomenti, anche dal punto di vista tecnico, per spiegare le varie motivazioni se ti interessa approfondire. Interessante notare come le gas fee cambiano dalla mattina alla sera, cambiano da un giorno all'altro, cambiano in base al prezzo di Ethereum, in questo momento Ethereum, mentre sto registrando, è ai minimi storici, o quasi, insomma, è molto basso, non è ai minimi storici, ma è molto basso il valore, e per cui le gas fee sono minore in questo esatto istante. Però, se poi l'importo è alto, o se c'è molta richiesta, no, sulla rete, bla bla bla, allora possono cambiare e il prezzo può essere alto. Qual è il paradosso delle gas fee? Ripreparati. Che, a volte, l'importo è uguale al prezzo dell'NFT, o a volte anche maggiore, cioè paghi uno per l'NFT e uno e mezzo di gas fee. Cioè, ma ragazzi, ma che senso ha? Ed è il motivo per cui Ethereum come rete si evolverà, ci sarà Ethereum 2, a quel punto le gas fee andranno a passare, ci sono altre reti, le varie Solana, Polygon, eccetera, eccetera, che ti offrono delle transazioni senza gas fee, ma ad oggi il principale mercato per l'NFT è OpenSea e la principale rete utilizzata è Ethereum, e quindi questo, ci cucchiamo, non è la migliore soluzione, lo so, non sono soldi che prendo io, li prendono questi signori, però, insomma, queste sono le condizioni. Nel video, ad esempio, non ci sono fondi a sufficienza come avere un conto corrente senza abbastanza soldi su e non ti fa andare avanti. Nel momento in cui invece hai abbastanza Ether, ti dice ok, prosegui, conferma e boom, lui acquista, paga le sue gas fee, paga la sua tassa e a te arriva l'NFT.